Una comunità cresciuta negli anni e una parrocchia punto di riferimento al centro di questo processo in un quartiere molto popolato, quello di Difesa Grande a Termoli. Da quel giorno sono passati 25 anni e l'anniversario della dedicazione della Chiesa di Santa Maria degli Angeli ha rappresentato un punto di arrivo ma anche di inizio per il futuro dell'intera zona. In tanti hanno partecipato alla messa ricordando il 20 febbraio 1993. Veramente un'emozione grande perché dopo tutto il peregrinare che abbiamo fatto nei vari garage, poi questo capannone di metallo, però c'era questa gioia, questa cosa di avere questa casa, di avere questa casa bella e ricordo benissimo quando si è aperta questa porta. Ecco, sono emozionata come allora. Questa struttura, la casa della parrocchia, diciamo, l'abbiamo vista dalle prime fondamenta, è cresciuta, l'abbiamo costituita noi, è cresciuta con noi, noi siamo cresciuti con essa e quel giorno è stato un giorno memorabile come quello di vedere realizzato una cosa immensa. Io in realtà nel 93 sono nata, poi ho abitato qui a Difesa Grande e quindi è stata da sempre la mia parrocchia. Per fortuna poi è stata sempre più in me perché grazie alla presenza degli scout, la mia presenza qui è costante, quindi tutti i giorni sono qui e grazie alla parrocchia abbiamo avuto la possibilità di avere con noi tantissimi ragazzi che ogni giorno, insomma, animano la messa, stanno con noi, quindi è una bella cosa. La messa animata dal coro parrocchiale è stata celebrata dall'arcivescovo emerito di Lecce, Domenico D'Ambrosio, allora alla guida della diocesi, insieme al vescovo Gianfranco De Luca e i sacerdoti della comunità. All'inizio il parroco Gabriele Morlacchetti ha evidenziato il senso di questa giornata per vivere un momento di consapevolezza e di impegno per il futuro, tante esperienze e la condivisione di un evento comunitario. Qui c'è stato un popolo, come diceva Mons. Gianfranco, che ha costruito la sua chiesa. Sacrifici, attese, impegni, collaborazione, generosità impensabile e poi il motore mobile e mobilissimo che era Don Benito, che metteva a soccuadro tutta la comunità perché si realizzasse questo meraviglioso tempio. Come diceva Mons. Gianfranco, costruito secondo la ricchezza del linguaggio liturgico. Il motivo più grande che ancora conservo come ricordo e custodisco nel mio cuore è quello di aver vissuto la crescita della comunità come popolo di Dio, come coscienza di battezzati che sono pietre vive della vera chiesa perché l'edificio che abbiamo inaugurato è semplicemente la casa della chiesa che sono i battezzati. E all'importante anniversario sarà dedicato anche un approfondimento della trasmissione Viaggio in Molise. Grazie.